Cosa stai facendo? Jay! Che hai combinato? Sono operata ad un ginocchio Ah, quando? Più o meno un mese fa Non credevo mi conoscessi Cosa? Stai scherzando? No, voglio dire Lo scorso semestre abbiamo seguito il corso di spagnolo e non mi hai rivolto la parola Mai una volta Lui è Bob È un mio amico Una sorta di amico autista in questo momento Ma è solo un amico Ti hai scelto?